24 anni e sentirli tutti. È infatti dal 2000 che la serie Dynasty Warriors ripropone la stessa formula, quell'uno contro mille di stampo arcade che ci convolge nelle spettacolari battaglie per l'unificazione della Cina imperiale. Le cose però potrebbero mutare presto, perché con quel Dynasty Warriors Origins previsto a gennaio 2025 su PC e console di ultima generazione, Koei Tecmo e Omega Force hanno intenzione di imprimere una virata netta alla saga. Noi ne abbiamo provato la demo e siamo pronti a svelarvi i dettagli di questo cambiamento. Cerchiamo di essere chiari sin da subito. Quello che Origins cerca di fare in realtà è prendere la formula tradizionale della serie e modernizzarla attraverso una serie di modifiche aggiunte. L'obiettivo è quello di rendere l'impianto decisamente più interessante, evitando comunque di proporre ai fan di lunga data un prodotto diverso da quello che hanno sempre apprezzato. Tutto parte da alcune intuizioni relative alla trama, che sviluppano concetti già sperimentati all'interno dei tanti spin-off del franchise. A cominciare dal protagonista misterioso, un vagabondo che ha perso tutti i propri ricordi, ma non la sua straordinaria abilità nel combattimento. Nel primo capitolo di una campagna che promette di essere piuttosto corposa, il nostro eroe incontra Zhang Zhao proprio mentre quest'ultimo sta ponendo le basi per quella che diventerà la rivolta dei turbanti gialli. Inizialmente il protagonista appoggia il desiderio delle persone comuni di ribellarsi contro un governo che le sta affamando. Tuttavia, a un certo punto, il movimento guidato da Zhao assume una connotazione differente e i turbanti gialli cominciano ad agire come spietati saccheggiatori. Questo cambiamento spinge così il protagonista a unirsi alla squadra di Liu Bei, che sta riunendo abili combattenti al fine di fornire all'esercito le capacità necessarie per porre fine all'insurrezione. Non sono dunque gli eventi del romanzo dei tre regni a cambiare. Nel modo in cui la saga targata Koei Tecmo prova a reinterpretarli, bensì l'approccio alla narrazione e alla regia, che appaiono completamente rinnovate, offrendo un punto di vista inedito, affascinante e ben raccontato. Gli sviluppatori sono riusciti a ottenere questo risultato introducendo poche ma importanti novità, qualche dialogo finalmente accattivante, piccoli dettagli che arricchiscono la storia, ma soprattutto i risvolti sovrannaturali legati alla natura del protagonista. Se la trama ha certamente il suo perché e potrebbe rappresentare un valido motivo per cimentarsi con questo nuovo capitolo, è il gameplay apporsi come l'elemento centrale dell'opera di rinnovamento. È buffa a dirsi, ma basta partire dall'inedito concetto di game over per comprendere quanti e quali cambiamenti siano stati apportati all'approccio originale, fatto di combattimenti sempre uguali in cui si spazzavano letteralmente i campi di battaglia da orde di nemici senza preoccuparsi che qualcuno potesse ferirci. Il protagonista unico e inedito da questo punto di vista rappresenta senz'altro una scommessa, ma al contempo anche l'opportunità per gli sviluppatori di puntare a un sistema di progressione più dettagliato e meno dispersivo, con un albero delle abilità leggibile, armi diverse e soprattutto valorizzate nelle loro unicità. Le novità sono però anche strutturali, con una world map esplorabile passeggiando e interagendo con eventuali personaggi, mercanti, locande, oggetti da raccogliere e punti di interesse che sbloccano nuove zone. Una volta sul campo di battaglia, tutti questi elementi trovano così una sintesi che ribadisce il concetto di rivisitazione piuttosto che di rivoluzione. La sensazione è infatti che qualcuno negli uffici di Koeg Tecmo si sia finalmente svegliato e abbia deciso di portare la saga in questo decennio, facendo però attenzione a non tradire lo spirito originale. Ritroviamo quindi il layout dei comandi a cui siamo abituati, così come le meccaniche legate all'esecuzione delle combo, la parata e le diverse manovre speciali che si caricano affondando i colpi. Il tutto da creare utilizzando determinati materiali fra una missione e l'altra, nell'ambito di una piccola concessione al crafting. Il nostro personaggio subisce però l'attacco dei nemici e le possibilità di ripristinare la salute sono limitate. Ciò significa che per la prima volta è possibile morire in Dynasty Warriors e per farlo non è necessario pompare al massimo il grado di sfida, finendo intrappolati fra le pieghe di un bilanciamento che finora è sempre stato molto approssimativo. È una sorprendente novità questa, che porta con sé un ripensamento delle tattiche e l'impiego di approcci meno spregiudicati, a tutto vantaggio di uno spessore che riesce a mascherare l'inevitabile ripetitività dell'azione. Ripetitività che, al netto di qualche piccola variazione sul tema come i sortileggi, riprende le dinamiche di liberazione della mappa che ben conosciamo. E arriviamo infine alla realizzazione tecnica, anch'essa completamente rinnovata. Il protagonista e alcuni comprimari vantano ovviamente un design inedito, mentre i vari condottieri riprendono per molti versi lo stile già utilizzato nei precedenti capitoli. Sono quindi gli scenari ad aver subito le modifiche più importanti. La serie ha sempre dovuto scendere a compromessi nel tentativo di portare sullo schermo il maggior numero possibile di personaggi, e mettere così in scena spettacolari battaglie su larga scala. Ma Origins compie finalmente un deciso passo verso ambientazioni interessanti e finalmente belle da vedere. Intendiamoci, il grado di interattività non è cambiato, e il modo in cui ci si muove all'interno degli scenari è ancora votato alla rapidità piuttosto che alla presenza. Aspetto questo che si riflette anche in un feedback dei colpi discreto sebbene non memorabile. Certo, la grafica si muove un po' fra alti e bassi, evidenziando di nuovo il desiderio di pensare innanzitutto alle prestazioni. Con una RTX 4070 è possibile giocare a 4K con tutto al massimo, e godere di 60 fps stabili anche nelle situazioni più incasinate, e trovando un supporto già molto completo sotto il profilo degli upscaler, che magari avremo modo di sviscerare in fase di videorecensione. Dynasty Warriors Origins sembra davvero l'episodio della svolta per la serie prodotta da Koei Tecmo, che finalmente ha avvertito l'esigenza di ripensare il franchise donandogli un'impostazione più moderna e interessante, pur senza rinunciare a una formula tanto amata. Dal comparto narrativo alla direzione artistica, dalla struttura al gameplay, passando per la realizzazione tecnica, Origins alza in maniera sostanziale gli standard a cui eravamo abituati, e che temevamo fossero destinati a non cambiare mai. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con il cambio di rotta eseguito dalla saga o l'avreste fatta rimanere ancora nella sua comfort zone? Diteci la vostra nei commenti, e non perdete l'occasione di iscrivervi al nostro canale per conoscere il nostro giudizio finale, una volta che avremo modo di confrontarci con la versione completa del titolo. Dalla Cine Imperiale per oggi è tutto. Voi però non dimenticatevi di lasciare un mi piace al video e suonare la campanella delle notifiche. Alla prossima!